Cosa ne pensi della figa? Della figa? Penso che... Penso che se fossi una ragazza con la figa ci nasconderei molto più... molte più cose I soldi sicuramente I soldi sicuramente Cioè è strano che ogni maschietto ok che i maschietti sono un po' sporchi però è strano che ogni maschietto assieme ai suoi amici faccia tanti gioi col pisello un po' perché sono gay e un po' perché è figo avere qualcosa che pensola fa ridere il pisello Ciao Marco, ti riempirei di bacetti E fallo Damian, beccatene uno o due intanto stronzo Però è strano, non ho mai visto una ragazza fare ragazzi merda, non ho soldi per i biscotti alla macchina dei biscotti oh, esce tipo 5 euro che aveva dentro la figa non ho mai vista sta cosa e questo è un esempio se ne potrebbero fare tanti di giochi da fare con il recipiente gratuito che madre natura vi ha dato e invece no non ho mai visto niente del genere io sperimenterei un po' Ciao ciccionazzo io sono al lavoro e tu spaparanzato su quella sedia maledetto mino della Michelin senti nessuno nonostante il grasso sotto sotto c'è un cuore e comunque io sto lavorando anche non lo vedi? Money in the badge di solito li nascondiamo tra le tette i soldi è vero hai ragione però fra le tette ok uno vede questa cosa e fa l'ho già vista nella figa non l'ho mai vista se qualche ragazza per cortesia ovviamente se sei minorenne e senti queste cose qua non sono vere la figa poi cos'è se invece sei maggior anni la figa è quella che hai sotto tipo in qualche fiera vuole farmi una donation in live perché la gente ha iniziato a farmi donazioni in live nella vita vera in live più che in live se vuoi darmi 5 euro e me li esci dalla figa io farò anche ti faccio anche il favore che non li annuso perché sai ci sono i maschi che ormai si sentono fighi a fare weirdo con le persone pensando che devono sparare tutto all'inizio sono d'accordo però ti faccio il favore di non fare il pervertito e se fai questa cosa qua davanti a me mi farebbe molto ridere solo perché non l'ho vista e magari non far ridere non è che siccome una cosa non è stata vista dovrebbe far ridere però ahimè io funziono così se non vedo una cosa la prima volta che la vedo mi fa ridere e secondo me le persone che fanno le attiviste per le lgbtq plus dovrebbero capire che un po' è questo il problema che se la prima volta che senti nella vita quel maschio è diventato femmine poi e poi capisci che è normale però non l'hai mai visto perciò fa ridere all'inizio e io amo ridere all'inizio io amo ridere di qualcosa che non ho mai visto prima per poi accettarla perché sono intelligente dio cane no? e ho un po' di boh dignità come volete chiamarla stima ho un po' di quello perciò poi accetto tutto ma all'inizio se non ho mai visto una cosa mi fa ridere ma come i bambini che gli metti le chiavi colorate e fanno è un po' quello non se ne è mai andata quella curiosità per il nuovo della mia vita e sono contento che non se ne sia mai andata quindi se potete un attimo nascondere 5 ore nella figa e darmeli quando ci vediamo in fiera non c'è niente di sessuale l'altra volta ho letto un commento che mi è comunque rimasto in testa ovvero il fatto che avevo qualche live di prima avevo detto che devo fare un piccolo spezzone per our days il nuovo perché sto programmando il nuovo our days già abbiamo fatto dei video dove siamo tutti nudi a casa e facciamo i cani avevo già trovato tutti i maschietti e chiedevo in live delle femminucce dobbiamo essere tutti nudi ad annusarci il buco del culo fare come i cani pisciare ingropparci mangiare dalla scodellona del cane dalla cosina è un tizio non mi ricordo chi ha caricato questa cosa ciao Greta un bacio ciao Marco sono felice che sei in live ti metto in sottofondo mentre guido verso Milano cuore rosso buona guida stai attenta sarei onorato se fossi l'ultima cosa che senti prima dell'incidente mortale vabbè chiedevo se ci fosse qualche ragazza intenzionata hanno trovato molte grazie mille ragazze e molte molto belle no perché uno magari può pensare vabbè ora che arrivano le bruttazze con la ciccione che utilizzano questa roba qua dei cani per avere la scusa dell'arte per sbrotolare no? io sono così no invece è molto belle quindi let's go arte vera e propria ciao Marco non è bene anche noi brutti diciamo ma che ne so nocciolone grazie per l'abbonamento è un tizio ha scritto sotto un freeboot di questa mia richiesta vabbè che faccio schifo e che uso queste cose per approfitto di queste mie idee pseudo artistiche per sfogare i miei le mie le mie le mie le mie le mie cose represse sessualmente mrc ho merrinoide ma un cosplay di babbo natale tu dirai con il tuo solito fare da messinese perché sono grasso e ho la barba lunga certo che sì non è da messinese non è fare da messinese e fare da ciccione con la barba fare da messinese fottiti questo è da messinese stronzo ma sono anni che te lo dicono tipo tutti no non è vero che io faccio cose schifose perché sto sfogando repressioni sessuali no non me l'ha mai detto nessuno a me mi dicono che è schifo marco la cacca no non me lo dicono mai ma che dici necrov sì dove palesemente represso espresso palesemente espresso sei solo deviato marco vabbè ragazzi non vi parlo più ma noi ti seguiamo per questo non non è importante allora io ci ho pensato a questa frase che lo faccio solamente per esprimere le mie ipotetiche repressioni sessuali e ho pensato Barry Bario ciao che se fosse vero che modo figo di esprimerle no cioè guardate Filippo Tourette guardate come lui ha espresso la sua repressione idiota ammazzando una tizia io organizzo una cosa a casa mia dove siamo tutti nudi facciamo un video che fa ridere annuso un po' il culo c'è gente che l'annuso a me che cazzo vuoi dirmi è strano vuoi fare la festa e dire Marco Merino ha fatto quella cosa là non era più non era più quello che era un tempo puoi farlo però io mi diverto così tanto e non voglio giustificarmi voglio giustificarmi un po' voglio un po' giustificarmi dicendo che e dovreste provarlo anche voi di far uscire quello che pensate faccia schifo e che non esce solamente perché pensate che faccia schifo niente fa schifo uccidere qualcuno fa schifo sottomettere qualcuno senza la contro la sua volontà fa schifo fare ai cani nudi non fa schifo fa ridere ed è interessante mi dissocio da che? ho detto che fa schifo sottomettere ma sei stupido no fa schifo Marco e allora non lo faccio più Tonino e allora dai ora chiamo tutti gli dico non si fa più che brutto se lo facciamo ma se a qualcuno puzza il bucone del culone tipo il classico d'oro di culo merdino eh ma siamo cani ma se a qualcuno puzza il buco di culo allora ragazzi non ci siamo capiti non ci siamo proprio capiti noi non dobbiamo spogliarci per fare no dobbiamo diventare cani dobbiamo trascendere questa nostra figura umana e diventare dei merda di cani che hanno usato il culo non per dire ora se ci puzza di merda magari mi piace no ma per salutarci e per capire con chi cazzo stiamo avendo a che fare e se riusciamo a farlo bene senza far intravedere niente di sessuale o di sporco in quel modo là verrà un bel video concentrati wuff wuff visto? cosa hai chiesto? argine? anguilla in the pussy it's shockwave baby va bene ciao Marco Lino sono gay ho l'influenza per fortuna direi così posso incontrare i miei parenti domani sono gay ho l'influenza così non posso incontrare ah perché domani perché domani è la vigilia ma poi alla fine per un po' di puzzata in merda che ci fa? dai marking time io io mi addormento sperando di incontrare l'indomani e poi non succede mai qualcuno come te cioè che mi dica ma alla fine che ci fa? niente anzi ci fa qualcosa se non lo fai uffa ma essendo cani quindi se a qualcuno viene la pulsazione di scopare deve farlo merda no ma ci vannano sarebbe figo no? perché c'è anche panetti e panetti voglio che mi ingroppi no? a un certo punto che mi salti a doso senza che io voglia perché i cani sono così sì 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 quegli animali che diciamo che sono meglio di noi in tutto e per tutto si stuprano soprattutto se quello che stupra è più forte a livello muscolare di quello che viene stuprato sì e nessuno gli dice niente a quei cessi perché? perché sono peggio di noi The Last Water Drop un bacino grazie The Last Water Drop grazie anche a Elisa96 grazie e Barry Barrio Barry Barrio mi sa l'avevo già da Simone ci sta approvato infatti Madonna che schifo i cani non sono così male fai Maratone Harry Potter Simone è più forte di te un giorno ho sfidato Simone a uno sparing d'amicizia amichevole ho detto ok dai combattiamo intanto quando gliel'ho detto lui ha fatto Megatron combattiamo combattiamo Simone ok faccio porco oddio hai vinto mi ha dato un pugno me l'ha dato qua oh mi sono arreso uno perché non sono il massimo della io sono un po' un kamikaze cioè se sei mio amico e ti stanno picchiando i Maranza ma non perché voglio fare l'assista contro i Maranza ma perché so che solo loro picchiano Filippo Turetta è un maranzino Fede Papins uno e se non lo era dovrebbe esserlo io mi lancierei a difenderti morirei ma porco Dio muro anche qualcuno con me muore anche il tuo aggressore e ti salvo baby no invece sembra invece di poter vincere sopravvivendo panetti ha un ipotetico scontro fortissimo lui è più forte di me si intu- non è più forte di me non è più forte di me ma per la vita